La Regione Campania resterà ancora in zona rossa almeno fino al prossimo 3 dicembre. A confermare il colore è stato lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti. La valenza dell'atto firmato sarà valido fino al 3 dicembre 2020. La decisione ha suscitato la reazione del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha commentato, sarcastico, apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo, come è noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l'unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell'Arianico. Tutto il resto è propaganda ed ancora prosegue mettendo in evidenza. I controlli sono pari a zero, sono in libera uscita tutti tranne i venditori di pantofole e di panno beige. Poi ha anche puntualizzato sui dati da diffondere in tutte le regioni inerenti ai contagi, come fatto dalla Campania. Insomma, restano le polemiche sulla decisione della riconferma dell'area rossa, mentre altre regioni diventano di altro colore. Lasciano infatti da domani la zona rossa Lombardia, Monte e Calabria per passare a quella arancione. Ispettori.